Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. È da un po' che effettivamente non portavo Genshin, anzi è praticamente mai che porto Genshin sul mio canale. Però oggi è una situazione particolare. È una situazione particolare perché è uscito Itto, un personaggio che sinceramente a me mi piace particolarmente. Anche perché appunto possiedo Eula che è fondamentalmente la mia damager in generale per quanto riguarda il mio team. È quello che vedete appunto in sovraimpressione. Quindi Zongli, Eula, Raiden e Cici. Ma Cici la sto utilizzando soltanto per ora giusto per vedere come è diventata. Ma fondamentalmente al posto di Cici ho sempre utilizzato Diona. Quindi diciamo che Cici al momento è soltanto un test. Non è malvagia col nuovo set, sinceramente parlando. Però non lo so, forse per una questione mia personale, per una questione di cooldown, per una questione anche di caricamento della ulti, forse con Diona mi trovo meglio. Anche perché per me Diona è un personaggio veramente incredibile. Detto questo oggi, con questo panorama che vedete qui su Inazuma, andremo a pullare per Itto. Andremo a pullare per Itto e la mia situazione è abbastanza particolare. Ho qualche primo gems che ho ottenuto da parte. Tecnicamente vorrei pullare sia il personaggio di Itto e sia la sua arma. La sua arma è fantastica perché comunque incrementa la difesa e dato che Itto è un personaggio basato principalmente sulla difesa, è assolutamente ottima. E soprattutto gli attacchi normali e caricati sono incrementati del 40% in base alla difesa. Quindi non solo abbiamo il boost per la difesa che è la statistica principale, ma abbiamo un boost anche appunto per i danni. Quindi la spada è veramente un qualcosa di incredibile. Penso che sia un'ottima spada ovviamente non solo per Itto ma anche per Noelle. Chiunque ovviamente voglia giocare con Noelle. Cioè è una spada veramente veramente incredibile. Però a mio avviso Itto è comunque un personaggio fighissimo. È un personaggio fighissimo. Poi tra l'altro è uscito anche Garou che è nel banner insieme a Itto. Quindi direi due piccioni con una fava non me li posso fare scappare assolutamente. La mia situazione per quanto riguarda il pool del character event è abbastanza positiva. Perché come potete vedere l'ultima quattro stelle è stata Sayu che appunto mi interessava giusto da ottenere come collezione ma nulla di più. E poi come potete vedere praticamente ho già riempito di pool anche Toma che mi interessava. Ho preso praticamente diverse pagine già complete per quanto riguarda il pool. Infatti come potete vedere qua addirittura siamo a 7 pagine, 8 pagine, 9 pagine e addirittura decima pagina praticamente completa. Dato che l'ultimo personaggio che mi è uscito è stato appunto Raiden. Quindi l'ultimo pool che ho fatto fondamentalmente sul banner è Raiden perché l'ho portato a C1. Mi interessava la C1 di Raiden. Sono riuscito appunto a pullare fino a questo punto e di conseguenza ho preso anche la C1 di Raiden. Situazione diversa invece per quanto riguarda le armi. Per quanto riguarda le armi purtroppo la mia situazione non è messa benissimo. Dato che l'ultima arma 5 stelle è stata per l'appunto la lancia per Raiden. Dato che appunto non ho avuto interesse fondamentalmente a pullare armi in questo periodo. Però Raiden la volevo completa in quanto l'arma su Raiden è a dir poco perfetta. Non pullo tantissimo io all'interno di Genshin. Io preferisco pullare sempre personaggio e arma piuttosto che fare personaggi a costellazione. Sinceramente parlando perché reputo che comunque avere il personaggio e l'arma specifica del personaggio convenga di più. Questo è un mio pensiero. Fino a questo momento mi ci sono trovato bene a pensarla così perché non ho avuto difficoltà comunque all'interno del gioco. Sono riuscito tranquillamente a fare tutto quello che c'era necessario da fare all'interno del gioco. Quindi anche perché Genshin comunque non ha dei requisiti altissimi per quanto riguarda il completismo del gioco. Tutto il resto è solo un capriccio fondamentalmente. Il gioco può essere giocato da chiunque. Quindi tutto ciò che concerne il pull e tutto ciò che appunto vede di fronte nuovi personaggi è puramente un capriccio. Detto questo direi di cominciare dai personaggi dato che siamo messi un po' meglio sperando appunto di riuscire a beccare subito Garou. Anche perché scusatemi a beccare subito Itto. Ho guardato Garou e mi sono confuso. Anche perché se dovessi perdere il 50 e 50 tecnicamente mi andrebbe anche bene. Cioè paradossalmente mi andrebbe anche bene perché sto aspettando un personaggio in particolare. Quindi se dovessi perdere qui e avere la possibilità di avere il 100% garantito al prossimo pull che voglio fare sicuramente non mi dispiacerebbe. Però intanto ci provo. Dato che sono messo abbastanza bene con i pull direi che ci provo. Detto questo direi che posso cominciare. Let's go. Prima multi vediamo se siamo subito fortunati. No 4 stelle vabbè vediamo un pochettino se magari becco Garou dato che comunque Garou è il 4 stelle rate up come personaggio. No mi sa che era il sacrificial bow non male non male sacrificial bow mi interessa mi interessa. Non so se ce l'ho refa in J5 però dovrei controllare effettivamente. Ma credo credo di no. Vabbè penso che la 4 stelle a questo punto fosse appunto esatto il sacrificial bow. Ok torniamo indietro. Dovremmo essere adesso a 66 credo come pull perché ero a 60 bene o male. Quindi sì. Let's go. Altra multi. E qui c'è il 5 stelle. E qui c'è il 5 stelle. Vediamo se siamo stati fortunati a vincere quest'altro 50 e 50 oppure no. Oh Garou anche nella stessa multi. Ottimo. Perfetto almeno avercelo. Non voglio portarlo a costellazione ma almeno avercelo. Come personaggio giusto per completismo va bene. Tanto poi le copie le troverò in giro negli altri banner. Non è assolutamente un problema. E qui Diluc. Non ci credo Diluc. Ho perso il 50 e il 50 ma ho trovato Diluc finalmente. Porca miseria. Diluc mi interessava tantissimo. Diluc mi interessava tantissimo ad averlo nel gioco. Mi interessava tantissimo. Perché voglio fare delle cose con Diluc pazzesche. Finalmente c'è Diluc e è uscito. Non ci credo. Grande. Sono contento. Ho perso il 50 e 50 ma mi è andata bene. Mi è andata benissimo. Diluc mi interessa. Diluc mi interessava. Cioè io l'ho detto posso anche perdere il 50 e 50 per prendere Diluc. Dato che non ce l'ho. Cioè io praticamente da quando ho cominciato il gioco non ho mai ottenuto Diluc. E va bene. Va bene. Va benissimo. Benissimo. Beh a questo punto io non vado a pullare l'arma. Perché tanto non riuscirei a riprendere Garou. Eh scusatemi madonna costo Garou. A prendere Itto. A questo punto non riuscirei a prendere Itto. Per cui tanto vale che mi conservo tutto. Letteralmente mi conservo tutto. E vado avanti. A questo punto conservo e vado avanti. Incredibile. Diluc. Che bellezza. Magari molti di voi non non saranno d'accordo col mio essere così entusiasto per Diluc. Ma io sì. Sono felicissimo. Diluc lo volevo. Anche perché voglio fare dei team appunto basandomi sul perma sul perma melt. Che è da da parecchio che voglio provare. E quindi bellissimo. Bellissimo. Sono veramente veramente soddisfatto. Soddisfattissimo di questa di questa pull. Soddisfattissimo. L'arma a questo punto non la cerco perché non mi interessa. Sarebbe stato carino. Cioè sarebbe stata carina la spada. In questo caso lo spadone. Per Itto. Ma Itto non l'abbiamo trovato. Per cui va bene così. Risparmio. E pulleremo appunto sul prossimo PG. Niente. Ragazzi detto questo io chiudo. A questo punto. Quindi grazie per aver visto il video. Se l'avete visto. E ci becchiamo alla prossima. Bye bye. Bye bye.